C'è la prima volta, la sua prima opportunità di visitare la Calabria e vedere soprattutto l'intensità che ha trovato in questa zona di traffico. Essere qui per lui è una sfida anche per scoprire il modo giusto per sbrigare e cercare di risolvere un po' quelle problematiche legate al traffico.